Salve, prego si accomodi, benvenuto, mi dica come mai è qui? Domanda scema, immagino che lei sia qui per iniziare un corso nella nostra palestra, vero? Perfetto, mi aspetti un secondo eh? Ok, vado, questo è poi per l'iscrizione, glielo do a lei, si ogni volta le segneremo qui sopra dei punti diciamo, con la tessera che le darò tra poco, ok allora, però prima di tutto su questo quadernino adesso andrò a scrivere e poi a trascrivere sul computer i suoi dati anagrafici per l'iscrizione alla nostra palestra Ok, ok, allora, aspetti solo un secondo eh? Perché mi preparo e iniziamo, ok Ok, poi andrò a trascrivere tutto, quello che scriverò qui lo andrò a trascrivere sul computer Certo, certo, allora mi dica, lei si chiama? Il suo nome per favore, grazie Ok, Chiara, certo Sì, perfetto Il suo cognome Ok, ah Sì, ok Chiara, Giacomo Ci si confonde con il cognome Ok, certo Sì E vuole fare la tessera per un mese, per un anno, per 36 mesi, anche solo per 12 mesi Ok, 12, certo E vuole finire quanti giorni a settimana nella nostra palestra? Ok, due volte a settimana, certo Certo, allora, ok, ho scritto tutto Qui Ho scritto tutto Lei da dove... quanti anni ha soprattutto, è importante? 24, perfetto E da dove viene? Di... da dove abita? È vicino alla nostra palestra Viene con la macchina Quindi auto unita, certo Ok, perfetto Direi, fantastico Allora, ok Sì, sono molto contenta Certo Di avere una nuova cliente nella nostra palestra Allora, questa è la tessera Io gliela do a lei Perfetto Sì Le do la tessera E la deve portare tutte le volte che verranno nella nostra palestra Mi raccomando Così noi Se non io, i miei colleghi Lei metteranno dei punti su questa gentina Che le ho mostrato poc'anzi Sì E da scappile, certo Ma questa è apposta per la nostra palestra E appunto c'è scritto sopra Dietro Il nome della nostra palestra E lei Questa gentina La deve tenere sempre con sé Insieme alla tessera Che le ho dato prima Perfetto Perfetto Ok Vuole già iniziare stasera O voleva solo informarsi Sapere che corsi facciamo Che esercizi voleva fare Aspetti, vado anche a scriverlo Certo Vado a trascrivere tutto così Se non ci sono io la prossima volta che viene Ci sono i miei colleghi E sanno già Cosa deve fare lei Ok Allora spinning Sì, certo E i pesi Mi raccomando Non si faccia male Faccia sempre attenzione Ok Perfetto E poi Il tapirulà Certo Abbiamo tutto per i nostri clienti È molto divertente Il tapirulà Sì Vedrà che si troverà benissimo Nella nostra palestra Spero almeno Mi farà sapere lei Se si trova bene Oppure no Lei lavora part time Ha un orario flessibile Può venire Può venire A che ora può venire Così Ci mettiamo d'accordo Certo Sì Prenda pure anche il biglietto La visita qui Dietro di me Ok E Sì Io Diciamo Sono un po' la direttrice Di questa palestra Però ci sono anche i miei colleghi Siamo uomini che donne Senza problemi Assolutamente sì Se non ci sono io Può magari mandarmi un'email Un messaggio Può anche chiamarmi Se ci sono dei problemi Certo Certo Perfetto Quindi Chiara Sì scusa Ma c'era un signore Che mi ha chiesto prima Un'informazione Quindi le ho dato De lei Come fossi un uomo Io do sempre del tuo I miei clienti Che sono come fossero I miei amici I nostri clienti Li trattiamo come Foste tutti I nostri amici Come fosse La mia famiglia La nostra famiglia Ok Chiara Perfetto Ci vediamo domani Allora Sì Va benissimo Avevi altre domande Altre informazioni Da chiedermi Avevi visto Sul nostro sito Certo Tutte le novità Le informazioni Le notizie Che ti interessavano Le hai viste Le hai lette tutte Non hai curiosità Non hai nessuna domanda Da fare Ok Affidati completamente Ai nostri clienti Cioè Ai nostri colleghi Scusami Sono stanca Affidati Scusa Calo di voce Affidati completamente Ai nostri colleghi Qualsiasi problema Qualsiasi cosa Tu abbia bisogno Ok Mi raccomando Sì Certo Noi siamo qui Per i nostri clienti E speriamo sempre Perché i nuovi clienti Come te E anche altre persone Vengano La prima volta Si trovino bene E ritornino Quindi fammi vedere Ripio chi ha Se mi sono persa qualcosa Allora Ok Chiara Giacomo Sì Perfetto 24 anni Vivi qua Nel paese Sì vicino alla palestra Quindi sei anche comoda Sei automunita Quindi con la macchina Non fai fatica Ad arrivare qui Certo Ecco Dimmi solo a che ora Saresti disponibile a venire Perché noi alle 7 Sì Dalle 8 Nel mattino Alle 7 e mezza di sera Poi alle 7 e mezza Chiudiamo Ok Quindi alle 5 Riesci a venire Due volte a settimana Alle 5 Certo Ok Scusa Ho solo due mani E a volte me ne servirebbero Più di due Due volte a settimana Adesso me lo scrivo Ok E vieni Scusa la voce Vieni sempre da sola O magari Alcune volte vorresti portarti Una tua amica O il tuo fidanzato Magari Sì Noi facciamo anche Diciamo Esercizi per le coppie In questa palestra Sì Che non è niente Rivolgare Assolutamente Anzi C'è chi fa i pesi Con il fidanzato Con il compagno Marito Con la fidanzata E' anche più divertente Fare sport Insieme A un'altra persona Anche con i propri amici Senza problemi Ok Alle 5 Va benissimo Sì 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 Sono molto contenta Di averti Come nuova cliente Nella nostra palestra Sì Abbiamo aperto Da poco Da qualche mese Solo Sì Infatti Era Ero in dubbio Se aprirono Una palestra Perché qui nella zona Ce ne sono già tante Però abbiamo fatto Furore E sono molto contenta Sono venuti Un sacco di Di persone Sono venute Un sacco di E' venuta Un sacco di gente Da noi Quindi vuol dire Che si trovano bene Che si sono trovati bene Sono contenta E spero anche tu Ti troverai bene Viene con noi Da noi Poi mi farei sapere Ok Quindi alle 5 va benissimo Sì E anche un orario tranquillo Perché di solito Vengono tutti al mattino A fare gli esercizi Sportivi Cinnici In palestra Certo Poi vanno a lavorare C'è chi ha i figli C'è chi ha mariti Compagni Finanzati Eccetera Ognuno ha degli impegni Nella vita E' ovvio Certo Alle 5 di pomeriggio Sarai tranquilla Ci sarà pochissima gente Pochissimi altri clienti A parte te Certo Ok sono contenta Non te l'ho detto prima Ma te lo dico adesso Benvenuta Nella nostra palestra Questa è anche una palestra Molto Rilassante Diciamo Molto particolare Perché qui Cerchiamo di trasmettere Il rilassamento La tranquillità Cerchiamo di trasmettere Il relax Via l'ansia Via le paure Le preoccupazioni Le dovete lasciare Quando entrate Fuori dalla porta Ok Ecco questo Volevo dirtelo Le altre palestre Sono tutte Piene di ansia Piene di nervosismo Di agonismo No La nostra è diversa La nostra Senti anche dalla voce mia Che è sussurrata Gli altri urlano Gridano Invece la nostra palestra È una palestra Dove Voglio Io come direttrice La tranquillità La pace Interiore Anche esteriore Dei miei clienti Della gente Che viene A fare esercizi Ok Questo volevo dirtelo Quindi 24 ore Sì certo 12 mesi adesso Ne fai prima 6 Poi 12 E poi vedi Se ti trovi bene Due volte a settimana Se no puoi anche aumentare la Le volte in cui vuoi venire In cui puoi venire Ovviamente Mi dai un colpo di telefono Ci sentiamo Ci organizziamo Ci mettiamo d'accordo Certo Noi tanto siamo sempre qui Palestra Noi devi sempre portare Questa centina Che noi disegniamo i punti E anche disegniamo Più che i punti Disegniamo tutte le volte Che vieni Un timbro Invece di timbrare Sulla pelle Timbriamo qui Su questa Accentina Che tutti i clienti hanno Quindi mi raccomando Tiritela sempre In borsa E poi ovviamente Puoi portarti La tessera Anche sempre Insieme All'accentina E poi puoi portarti Un borsone Con la roba da palestra Ovviamente Infatti Quando sei arrivato Ho visto che Non eri vestita Da palestra Non eri vestita In modo sportivo Però Per chiacchierare Per conoscerci All'inizio va bene Anche se ne dico i jeans Però È meglio che Ti prepari qualcosa Sicuramente Avrai i vestiti adatti Per fare sport Per fare esercizi Ok Perfetto Quindi Chiara Io ti saluto Ci vediamo la prossima volta Domani Ok Che giubili Perfetto E poi Ci vediamo Martedì prossima Perfetto Martedì Giubili Ok Benvenuta E grazie Che sei venuta A iscriverti Proprio Nella mia palestra Sono contenta Ti ho detto Un bacione Buona serata Ciao A presto